buon pomeriggio cari amici benvenuti da adri bisogno finalmente riesco a fare un nuovo video che bello sono emozionata oggi perché appunto è un mese circa che non faccio video e sono contenta in questo oggi 25 aprile infatti buon 25 aprile a tutti e questo video oggi lo dedichiamo guardate un po niente meno che alla mia visita presso il comics di taranto la quinta edizione effettuata cioè che è stata data ebbene sì il 16 di dicembre 2018 allora siamo il 25 aprile 2019 pensate da quanto tempo io abbia tenuto in busta guardate qua questi miei piccoli acquisti infatti ad alcuni mini stand del del comics di taranto guardate non so neanche io come ci sia riuscito davvero 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 è guinness questo senza esagerare veramente è un guinness resistenza alla curiosità perché come vedete sono sigillati dal 6 dicembre 2018 va bene ma lasciamo perdere voi le mie peculiarità caratteriali ormai le conoscete e quindi mostro soltanto questo è il biglietto l'ingresso che pagai fatto così molto carino ormai è la seconda volta che ci vado sono andata quella dell'anno scorso e così quest'anno qui c'era il programma erano due giornate 15 sabato 15 dove c'erano tutte queste questi appuntamenti qui molto simpatico con i cosplayers che circolavano di qui e di là c'erano questi mini stand con i ragazzi che disegnavano molto bravi chi vendeva i propri testi con tutti i disegni chi aveva i Funko Pops chi aveva gadget di Harry Potter insomma di tutto e di più molto molto carino e poi c'era un palco dove di tanto in tanto si esibivano dei ragazzi tra cui ho ripreso anche nel momento in cui c'era uno che interpretava ebbene sì Freddie Mercury aveva ben poco di Freddie diciamo però è stato bello perché in quel momento c'era I want to break free e quindi siccome sostengo che Freddie è in mezzo a noi ecco l'ho sentito vicino in quel momento e l'ho ripreso un pochino e infatti a fine video vedrete la carrellata delle immagini delle foto che ho fatto in più la breve ripresa di questo di questo ragazzo con tanto di giubbottino giallo e pantalone bianco con striscia rossa che interpretava appunto il nostro amato Freddie va bene detto ciò a questo punto passerei all'evento dell'apertura di questi di queste di queste bustine queste bustine qui non erano altro che delle bustine sorpresa che vendevano a un piccolo stand al prezzo di 3 euro c'erano in pratica delle box che avevano su scritto tema Harry Potter tema Sailor Moon e tema altri manga così io ovviamente ho scelto tema Harry Potter che apriamo tra un po' e tema Sailor Moon quelli che mi piacevano di più e poi c'era quest'altro stand con questa ultima bustina che la vendevano a 5 euro così ho chiesto al ragazzo ho detto puoi trovare fumetti gadget e l'ho voluto comprare adesso vediamo innanzitutto cosa si cela qui in quel di Harry Potter vediamo non impiegherò altri mesi per aprirli possibilmente perché io sono delicata non sono materiale quindi riesco a perdere tempo pure nella pere ecco qua vediamo subito oh my god dai serpeverde ecco che è quello che mi piace di meno però dai simpatico avrei preferito ovviamente nemmeno a dirlo o il tasso rosso che è la casata che mi contraddistingue quando feci il test sul sito oppure avrei preferito ovviamente mi sarebbe piaciuto lo stemma o il grivondoro è inutile dirlo sappiamo va bene però molto molto carino chissà se è uno stampino no vabbè poi tutto è possibile chissà qualcosa me la posso sempre inventare non è che mi manca l'inventiva andiamo avanti con Sailor Moon vediamo oh vedo già l'una io poi avevo vergogna di stare lì a tastare ne ho preso uno velocemente per parte non è che con i ragazzi che ti stanno di fronte non è che potevo fare la bambina che andavo toccando tutte le tutti gli incarti così non è che allora ne ho tirato su un paio oddio ma che carina questo dovrebbe essere allora aspetta lì ci sono Diana Luna e l'altra gattina non mi sta venendo il nome bocciatemi pure anche perché ho lo stampino delle tre gattine ma quanto è bello è veramente carinissimo beh per tre euro questo qui forse sono andata peggio questo qui per tre euro però questo qui questo portachiavi qui c'è andata bene il tre euro ne vale per cui un po meno però dai nell'insieme mi piacciono entrambi ed infine infine questo qui vediamo contiene un paio di cose si tiro fuori questo oh mio dio chi è questo qui non conosco acqua man oh my god acqua man non conosco non conosco non conosco bocciatemi anche in questo odio nostro desiderio che mi rompe allora facciamo così allora ve lo mostro in questa maniera allora abbiamo acqua man questi sono distintivo di terra due se qualcuno conosce questi personaggi che mi lanci un input nei commenti perché zero ragazzi zero zero dai carino comunque lo conservo lo leggo carino se può fare se può fare vedete così hanno visto inglese italiano no italiano beh dai lo tengo come ricordo nella mia visita al comics 2018 mai carino aver fatto così migliori fumetterie e librerie ok ok bene dopo di ciò sto facendo un casino col telefono affusate allora vediamo ciò non c'è fana sono tre invece gli oggetti all'interno dunque ci sta questo questo lo vediamo un po nascosto perché non voglio allora questo qui chi è questo qui a bebe spiderman si dai spiderman è conosciuto in tutto il mondo in tutto l'universo molto carina questa pin bellissima e poi c'è questo ma che carino beh dai questo qui è un personaggio di ovviamente potevo ricordarmi il nome di questo i dragon ball sicuramente però non saprei assolutamente penso è che sia la con ball perché io tra come uno non l'ho seguito però che carino e dai allora cinque euro qui sono andata di lusso guardate questo questo il fumetto per 5 euro dai carini e dopo facciamo una carrellata insieme questo e questo qua dai allora dal dal 6 dicembre ad oggi beh questa attesa è stata ben ripagata di tutti questi articoli carini benissimo ragazzi allora facciamo così adesso vi saluto vi lascio ad una buona giornata e in seguito a questo video c'è la sequenza di tutte le immagini con la breve esibizione di quel tipo che faceva freddy però ci ascoltiamo il materiale raccolto per i comics 2018 benissimo ragazzi vi saluto vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video spero di farne un altro presto ciao ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ragazzi avvicinatevi tutti